Uno stop forzato lo definiscono da palazzo di città dovuto ad una variante al progetto originario che dovrà passare al vaglio di tutti gli enti interessati. Il cantiere per la soppressione dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto a Barletta è fermo dallo scorso mese, da quando cioè Acquedotto Pugliese ha rilevato che la prosecuzione del progetto avrebbe causato problemi all'erogazione idrica nella zona della città a ridosso del cantiere ricompresa tra via Zanardelli, via Beccaria, via Rosmini e via Romagnosi. Per aggirare l'ostacolo si rende ora necessaria la realizzazione di un attraversamento della linea di ferro tramviaria funzionale alla creazione di una bretella lungo via Beccaria e via Zanardelli che consenta la regolare fornitura di acqua. Il nuovo progetto di ACQP è già pronto, serve il via libera di Italferra, RFI, ferro tramviaria e dell'impresa costruttrice Doronzo. Venerdì è previsto un incontro tra le parti che il sindaco auspica risolutore. L'Acquedotto Pugliese ha ritenuto che la deviazione della condotta idrica che porta l'acqua dalla città di Andri alla città di Barletta non fosse più funzionale al punto da consentire l'erogazione di acqua, la fornitura di acqua a un quartiere della città, praticamente il quartiere che sta via Zanardelli, via Rosmini, via Beccaria, per cui ha riconsiderato il progetto inizialmente approvato e questo è il motivo per il quale i lavori si sono fermati. Quindi siamo in attesa che ACQP approvi il progetto di miglioramento tecnico a Italferra che poi lo consegnerà in quanto progetto approvato alla impresa che eseguirà i lavori. Il progetto di eliminazione dei passaggi a livello prevede la loro sostituzione con due sotto via carrabili e pedonali per un investimento complessivo di circa 8 milioni di euro. La conclusione dei lavori inaugurati due anni fa è prevista per febbraio 2022, una data destinata inevitabilmente a slittare. Prima dello stop imposto dalla funzionalizzazione della condotta idrica, il cantiere era già rimasto fermo tre mesi a causa della pandemia. Il sindaco promette massimo impegno per condurre in porto un'opera attesa dalla città da quasi 30 anni. I cittadini hanno giusta ragione di preoccuparsi come si è preoccupata anche l'amministrazione comunale che è quotidianamente impegnata a mettere insieme questi enti perché possano dialogare in maniera serena, in maniera fattiva, in maniera collaborativa perché abbiamo più volte rappresentato il problema strategico di quella via e quindi io sono fiducioso, non posso non esserlo, che gli enti, che sono enti pubblici, si mettano d'accordo nell'interesse della città e anche nel loro interesse perché anche loro hanno problemi di finanziamento, di cantierizzazione, di risoluzione del problema che è un problema antico e che vedrà senz'altro la luce, io spero, nei tempi previsti.